Benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò un confronto tra una scheda Iliad e una scheda team. Dove sono adesso? Mi trovo in periferia di Milano. La team prende due tacchette mentre Iliad prende quasi tutto. Andiamo a fare lo speed test con l'applicazione. Andiamo in contemporanea ad aprirle. Vediamo cosa succede. Ci ha messo un po' di più a trovare il server della nostra Iliad, ma adesso sta partendo il test. Eccolo qua. Con la team con due tacchette siamo intorno ai 30, anzi adesso siamo saliti. Mentre con Iliad che prende quasi tutto siamo a 12, 80, 13. Il ping è 21 conto 71 di Iliad. Adesso sto misurando l'upload ma sembrerebbe che team è ancora maggiore anche qui. Infatti 8,68 qui è partito un po' dopo sull'altro device sta aspettando. Eccolo qua 2,75. Come vedete team offre ancora una qualità di rete migliore pur prendendo di meno. Vi facciamo un altro test per sicurezza. ecco qua che sta partendo. Vedete team intorno quasi a 40 arriva e non sta prendendo tutto il segnale. Mentre Iliad con tutto il segnale si attesta intorno ai 12, 13. Molto probabilmente Iliad prossimamente sarà migliorato, avranno altre antenne e via dicendo. È anche vero che offre un'offerta rispetto a team molto più bassa. Quindi bisogna valutare l'utilizzo di internet. Se serve un internet mega veloce si andrà su Vodafone team. Mentre se serve un internet discreto si può andare anche su Iliad. Andiamo ad aprire un video su YouTube. Ok. Vedete team ha già aperto la pagina. Allora vediamo se ci lo stesso video è in tendenza. Ok. Apriamo lo stesso video dei giornalisti. Vedete il team è partito un po' prima. in questione di qualche secondo. Vedete sulla team è già partito. Iliad ci ha messo un secondo di più. Andiamo a portare avanti il video. Vedete la team è già passato. Un per Iliad ci ha messo quel secondo di più. Cosa dire? Iliad secondo me è un'ultima alternativa team per chi usa internet magari per guardare qualche video su YouTube o apre qualche pagina web leggera o comunque usa internet e si può accontentare di una velocità inferiore rispetto a team Vodafone dicendo sicuramente il lato economico incide molto perché con 6 euro con Iliad abbiamo internet e altre funzionalità e altre. Abbiamo internet messaggi e chiamate illimitate mentre con team magari paghiamo 15 euro solo per i 30 giga. Ad oggi questo è il verdetto. E voi cosa ne pensate? Scrivetemelo nei commenti.